Parlare di mafia è importante perché la mafia c'è, esiste ed è da sempre una delle pieghe italiane. Ma di mafia non è sempre facile parlare, la cronaca non basta. Siamo nel 2042, la mafia non si è estinta ma ha acquisito il dominio sull'intera umanità e nei controlli governi. E' questo lo scenario scelto da Orazio Stangati, presidente del premio Mattarella, nel suo Ericlea, un romanzo di storia, mafia e avventura ricco di colpi di scena, presentato oggi nella sala caduti di Nassiria del Senato. Ma è importante parlare di mafia e la presentazione di questo libro è un'opportunità in più. Anche se in versione romanzata ma comunque ha la possibilità di arrivare alla lettura e quindi a suscitare anche tutta una serie di valutazioni critiche rispetto alla cultura della mafia nel nostro paese. Se scriviamo una cultura, cioè una conoscenza di quello che è e che rappresenta la malavita organizzata facciamo il primo passo per contrastarla in maniera efficace. Io ritengo che sia importante parlarne, importante acquisire una consapevolezza della gravità di questo fenomeno e poi anche magari discutere di tutte le opportunità che in questa legislatura la politica ha purtroppo mancato per portare a termine tutta quella serie di provvedimenti legislativi a partire da una riforma veramente efficace del 416 ter, cioè dell'articolo del codice penale che prevede una sanzione appunto per lo scambio elettorale politico-mafioso che è stata fatta ma di fatto togliendo efficacia di una norma fondamentale e non renderla invece più incisiva come avremmo voluto. Impreziosito dalla prefazione del magistrato Francesco Messineo, già procuratore della Repubblica di Palermo il romanzo narra di un paese che non esiste ma il cui nome viene ispirato da quell'eraclea minoa dei suoi nonni paterni in cui veniva a trascorrere gran parte delle sue estati da piccolo. Dunque l'eraclea nasce da un'idea di un futuro migliore per un futuro con meno mafia, anzi con un assoluto debellamento della mafia che possa portare a una miglioria per tutti perché l'uomo, come spiego in un mio euforisma anche se può sembrare formiante parlando di mafia non nasce nel buono, nel cattivo, ma nasce spontaneo e credo più che noi siamo tutti quanti dei fiori del deserto e un fiori del deserto non è mai un caso è sempre un'occasione Una storia di mafia che tratta la mafia in maniera completamente diversa dal solito la mafia che può avere una fine e la fine è data dal cambiamento dalla volontà di cambiare da parte di chi mette in atto dei meccanismi, dei collegamenti delle azioni crudeli e violente per il proprio tornaconto Il libro ci parla di persone che invece mettono in atto tutte le loro azioni per il bene di tutti